Ciao a tutti e ben ritrovati! Sempre a caccia di lavoretti carini, creativi ma anche facili da realizzare, ho preparato per voi questa card pop-up che rappresenta la natività. Ciao a tutti e ben ritrovati! Ecco oggi vi mostro questa card pop-up facile da realizzare, molto bella, colorata con i pennarelli acquarellabili. Ci sono anche i file a disposizione sia per realizzare la base pop-up ma anche per il disegno della natività. Lo potete scaricare in bianco e nero oppure già colorato. Innanzitutto stampiamo il file per creare la base pop-up e questo rappresenterà lo sfondo del presepe. Quindi andiamo a fare dei punti luce con un pastello ad olio. Poi iniziamo a dare il colore con i pennarelli acquarellabili. Non è importante essere precisi, ecco perché è facile che anche un bambino possa ottenere un bel effetto. Ora bagniamo un pennello nell'acqua e con il pennello stendiamo il colore. Io utilizzo un cartoncino di grammatura 185 grammi e sul cartoncino è possibile creare le sfumature con i pennarelli acquarellabili. Nella descrizione del video vi metterò tutti i dettagli dei materiali che ho utilizzato. La grammatura del cartoncino l'ho scelta appositamente perché mi permette di stampare direttamente sul cartoncino da una normale stampante casalinga. Ed ecco come procedere con i tagli. Stampiamo appunto un foglio con la base, pieghiamolo a metà e ritagliamo sul segno più lungo. Ed ora ripieghiamo in questo modo in tutte e due i versi. Ed ora ripieghiamo verso l'interno la parte tagliata. Ed ora dobbiamo ritagliare sugli altri due segni. Ripieghiamo nei due versi e poi mandiamo verso l'interno la parte tagliata. In questo modo abbiamo creato la base pop-up e prendiamo un cartoncino colorato per fare la copertina esterna. Se vogliamo possiamo ritagliare un centimetro lungo il bordo per creare una specie di cornice. Vediamo i disegnini della natività. Ne ho preparati due, scegliete quello che più vi piace e li trovate in due versioni, una in bianco e nero e una già colorata. Per colorare utilizzo i pennarelli acquarellabili. Mi piacciono molto e danno un effetto veramente bello. I colori sono brillanti e soprattutto sono facilissimi da usare. Inoltre ai bambini piace usare i pennarelli. Quindi possono disegnare normalmente e poi sfumare il colore con un pennello bagnato con un po' d'acqua. Ed ora ritagliamo il disegno e incolliamolo nella card pop-up. Ho preparato anche il contorno della grotta. Anche questo potete stamparlo e ritagliarlo su un cartoncino marrone. Ma ci sono tanti spazi per personalizzare il proprio lavoretto. E quindi potete arricchirlo con un pensiero di auguri per i familiari. Oppure con una dedica oppure con una poesia sul Natale. E proprio sulle poesie di Natale sarà incentrato il prossimo video. Se non volete perderlo vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Ed ora incolliamo la card alla cornice esterna. Per incollare utilizzo questa colla che è un adesivo aceto vinilico. È incredibile, eccezionale, trasparente, non sporca e attacca subito, velocemente. Non è come la colla vinilica che bisogna aspettare troppo tempo e poi bagna la carta. Invece questo rimane asciutto e asciuga in pochissimi secondi. Ed ecco qua il lavoretto è terminato. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video. Ciao ciao!